Ciao, sono Jacopo Riva, faccio il fisioterapista e sono qui per testimoniare il mio percorso con Alessandra e Ciro. Sono arrivato a Ciro attraverso Google, ho googolato come un disperato per cercare una soluzione al fatto che mi sentissi inadeguato per supportare e sostenere la mia compagna che lavora online ormai da tempo e seguire le sue campagne era diventato molto difficile. Ero piuttosto insicuro, mi ero informato, avevo acquisito delle conoscenze da me ma non ero riuscito a metterle sufficientemente assieme e abbastanza in profondità da sentirmi sicuro di me quando seguivo le sue campagne. Per cui sono atterrato casualmente sulla pagina di Ciro e mi ha convinto molto il tipo di formazione che dà che è una solida base approfondendo poi singolarmente le tematiche che a me interessavano. Per cui da lì mi sono mosso contattandolo e la call con Ciro mi ha definitivamente convinto che era la persona che faceva per me perché io cercavo un piano, un programma soggettivo e individuale, qualcosa che in qualche modo mi facesse crescere ma secondo quelle che erano le mie esigenze. Ed così è stato. Quello che volevo ottenere con questo percorso era una maggior sicurezza e gestione degli outcome, dei dati che arrivano attraverso le campagne, quindi un processo di analisi della parte di Facebook Ads che io non avevo, che non possedevo e questa cosa poi di fatto sono riuscito a ottenerla visto poi i risultati che ho ottenuto, abbiamo ottenuto. Seguendo la mia compagna, in ormai un paio d'anni le Ads andavano sempre un po' a rilento, erano poco efficaci e devo dire che nel percorso, mentre facevamo il percorso analizzando la situazione con Ciro e Alessandra e mettendo in piedi una struttura che era decisamente, ma si capiva, più solida e un'analisi più brillante delle pubblicità della campagna, siamo riusciti con 2.200 euro di investimento ad avere un ROAS, quindi un ritorno di vendita di circa 32.000, quindi posso dire che è stato il risultato della Madonna, insomma, convincente. Non mi aspettavo così tanto ma alla fine è successo. Per inciso la mia compagna fa la coach, quindi lavora nella parte olistica, quindi volevo seguirla direttamente perché mi rendo conto che le agenzie sulla parte di formazione, di coaching, almeno quel settore, le sento poco affidabili, quindi volevo aumentare le mie conoscenze, la possibilità di sostenere pienamente questo lavoro perché adesso posso dirlo di fatto con le conoscenze che ho. Sono diventato un po' marketer e quindi al di là di fare fisioterapista e quindi questo percorso lo consiglierei a tutti quelli che vogliono, desiderano crescere a tal punto da sganciarsi da qualsiasi tipo di subappalto, quindi agenzie, amiche agenzie. Per me è stato fondamentale per riuscire a fidarmi di me crescere. Non è un processo che è ancora finito perché è in evoluzione. Sicuramente se dovessi aggiornarmi ti contatterei Ciro perché rimane comunque un riferimento per questo mondo che è la parte del marketing digitale e sicuramente posso dire che per me è stato super. Mi ha permesso di ottenere i risultati che cercavo per cui lo rifarei e sicuramente lo consiglio. Grazie a tutti, ciao!